buongiorno ragazzi e ragazzi oggi sono ritornata qui con un nuovissimo video questo video si tratta di un video molto bello perché non l'ho mai portato sul canale questo genere di video ovvero il video preferiti del mese questo è il mio primo preferito del mese quindi guarderò tutte le domande dal cellulare poi più in là magari me le ricorderò a memoria quindi va bene magari se questo video cioè mi piace farlo più o meno perché è carino poi lo porterò nei vari mesi ok quindi questo è il preferito del mese di gennaio allora prima domanda ve lo dico subito allora prima domanda è canzone del mese allora non è tanto vecchia è uscita qualche mese fa ed è irraggiungibile di Shad e Federica mi piace un sacco la sento tutti i giorni wow stupenda perfetta profumo preferito del mese allora io non utilizzo profumi perché no però ogni tanto vado a prendere un po' quello di mamma dai se vogliamo dire il nome di Shad or ma non lo vedo io lo vedo ma non lo vedo io poi 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 il film del mese l'ho visto ultimamente per il ricordo per la scia proprio che ha che appartiene tipo cioè in che senso voglio dire che parla del ricordo di tutti quegli ebrei uccidi però va bene e ho visto il bambino dal pigiama rie che mi è piaciuto tantissimo peccato che la fine finita cioè veramente wow io non ho mai visto quel film l'ho visto solo una volta appunto questa volta e mi piace un sacco però la fine no perché tipo vabbè vuole no mi da proprio è un po' triste dai accessorio preferito del mese allora io accessorio preferito del mese non indosso accessori in pratica se vogliamo parlarne vabbè questo è l'accessorio per tutta la vita proprio occhiali ma questo è l'accessorio per tutta la vita proprio vabbè accessorio magari metto il caso che ora non ho però metto il caso di solido e quindi questo è l'accessorio poi cibo del mese allora come cibo del mese un po' casareccio un po' così direi un la pasta con la besciamella ma che mi fa mamma è buonissima oppure una pizza che cioè non è la pizza margherita ma è una una pizza che in pratica è un po' doppia con tipo il panzarotto o comunque vari condimenti a volte ed è molto molto buona però mentre un un cibo un po' più a noi anche il un roll che vende lo chan ed è buonissimo lo amo con i wustel mozzarella e patatine buonissimo oppure il mcdonald perchè mcdonald è il mcdonald poi tengo un po' di raffreddure non ci fate caso ok allora perfetto poi scarpe del mese come sapete io a inizio mese cioè a inizio gennaio con i saldi ho comprato questo paio di scarpe che uso giorno e notte mi piace molto che hanno tutto tutte le strisce olografiche sono semplici sbastare e sono bellissime vediamo e io quando compro un paio di scarpe nuove metto solo quelle quindi sono queste molto belle poi e si riferisce il cellulare mi dà la vita ok ok allora come cover del mese non posso mettere questa qui dell'apple perchè l'ho comprata a a fine gennaio quindi non ve la posso mettere però se vogliamo fare un'eccezione io metterei proprio questa qui che appunto è la cover dell'apple che terrò a vita cioè terrò un sacco di tempo però se proprio vogliamo dire durante il mese io dico questa perchè l'ho usata durante il mese prima di comprare questa qui quindi questa qui è tutta blu con il cerchio molto bella poi 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 allora qua cosa brutta del mese bruttissima veramente che siamo state male a inizio mese io e Giulia però vabbè questi sono dettagli e poi ho preso una leggera sorta perchè poi non mi sono fatta quasi niente alla fine al primo di gennaio quindi vabbè tutto ok poi app del mese musical.ly perchè si mi piace tanto o comunque gioco del mese su by surf però più app musical.ly poi cosa no aspetta descrivi una con una parola questo mese un po' malaticcio però questi sono dettagli e infine capo del mese allora questi pantaloni di Bershka che voi avete visto tutto cioè allora questi pantaloni di Bershka molto molto belli di Bershka così e poi questa maglia sempre Bershka molto bella tutta a righe blu e bianche e mi piace un sacco questa qui molto molto bella poi a parte questo basta è finito tutto quindi questo ragazzi era preferito del mese di gennaio e allora quindi 3 2 1 go quindi ragazzi questo era il video spero vi sia piaciuto a me è piaciuto tantissimo iscrivetevi a instagram marghe giulia kawaii 3 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 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 14 14 14 15 15 15 15 16 17 18 20 20 22 23 23 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 39 21 29 Grazie a tutti.